La seconda stagione della fiction che Dio ci aiuti, in onda su Rai 1, vede tra i volti nuovi del cast artistico, selezionato dopo vari provini tra bimbi di 6 e 7 anni, il giovane Cristian Favoino, promettente talento di canna, centro dell'Alto Ionio Cosentino, noto per i suoi eleganti portali in marmo. Le riprese, eseguite sia a Roma che a Modena, ci svelano il simpatico attore cannese nel ruolo di Davide, accanto ad attori come Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Massimo Bertmuller, Valeria Fabrizi, Laura Gravan e Rosa Diletta Rossi. Tutto si svolge all'interno di un convento, dove Sor Angela si occuperà sempre meno di gialli e misteri e sempre più di sentimenti e delusioni, incomunicabilità e dialogo, assenze e speranze. Tutta la cittadinanza di canna quindi offre con orgoglio al mondo televisivo e al pubblico italiano Cristian, il suo vite in erba.